Buongiorno a tutti e bentornati qui sul nostro canale, io sono Shark e bentornati su Gaming Galaxy. Vi ricordo sempre di lasciare un like o un commento nel video per farmi sapere che vi è piaciuto e di che cosa ne pensate di questi aggiornamenti che normalmente vi porto su Unshowdown e se non siete ancora iscritti e magari siete dei nuovi giocatori e volete sempre rimanere informati su questo gioco, ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella. Bene, iniziamo subito col parlare dell'update 1.1, ho già fatto un video in merito in realtà sulla live di quest'update che è andato online sul test server in realtà per un breve periodo, circa una settimana, perché la live c'è stata se non sbaglio giovedì scorso o martedì scorso, non mi ricordo mai le date e ovviamente oggi è uscita sul server invece normale, quindi il live server. Bene, nell'update chiaramente ci sono tutte quelle cose dette in live, le hanno aggiustate un pochino, ma comunque adesso andiamo a vedere realmente la patch note e quello che hanno inserito e magari poterlo commentare un pochino meglio. Iniziamo con gli highlights e ovviamente le tre cose principali che sono state aggiunte, nuovi contenuti leggendari, due nuovi equipaggiamenti, la Born Name numero 3 match e la Chalk Bomb e ovviamente c'è stato anche un improvement che andiamo invece subito a vedere, un improvement che sinceramente potevano mettere fin dall'inizio del gioco anche perché erano cose abbastanza elementari per un gioco di questo genere, cioè lo stay in lobby, quindi l'ora in avanti se siete con un team, con il vostro team potete rimanere una volta finita la partita con lo stesso identico team, il che rende tutto molto più facile non continuare ad aggiungersi, a richiedere le amicizie e poi a reinvitare le persone ogni volta che finisce una missione, un nuovo roster equipment list, quindi è andato, sono andate a modificare letteralmente il menu di acquisto degli oggetti o comunque il menu degli oggetti, andando ad inserire due nuove griglie praticamente, una per quanto riguarda le armi che noi utilizziamo più spesso e una invece per le variante leggendari o contrabbando, quindi sono stati inseriti e sinceramente è migliorato tanto da quello che avevano buttato fuori per la 1.0 e per fortuna Crytek ascolta la community ma fa le cose con la sua testa, quindi va benissimo così, ottimo, ottimo, ottimo update. L'ultimo invece pezzo degli highlight è hanno aggiunto dei filtri nuovi sempre al menu e quindi adesso noi potremmo andare a vedere solo e esclusivamente le leggendari o per esempio solo l'equipaggiamento che noi abbiamo già comprato, come era per esempio prima della 1.0, il che rende tutto molto più veloce sistemarsi gli hunter e finalmente oserei dire siamo tornati con una versione aggiornata del menu precedente in pratica che funzionava secondo me molto molto bene. Per quanto riguarda invece il nuovo equipaggiamento possiamo finalmente andare a vedere la Chalk Bomb, quindi Chalk Bomb ve l'ho già spiegato che cos'è, non è altro che un fumogeno che spegne le fiamme, che può essere utilizzato per spegnere le fiamme dei mob, spegnere le fiamme di un cadavere e del compagno che sta andando a fuoco o per esempio se siamo in una zona in cui ci sono più barili esplosivi e noi ci dobbiamo passare in mezzo sapendo che magari c'è qualcuno dall'altra parte o siamo in combat, possiamo lanciare una Chalk Bomb verso questi barili e far sì che non possono venire esplosi. Di conseguenza rende tutto molto molto più semplice. È ovviamente un equipaggiamento che è molto 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 difficile da utilizzare e soprattutto soltanto in alcune situazioni va utilizzato. Non è una dinamite, una Hive Bomb o una Fire Bomb che può essere utilizzata per uccidere qualsiasi cosa o per far casino o comunque diciamo è molto situazionale, è molto meno situazionale. La Chalk Bomb è assolutamente situazionale, situazionale come lo è la Chaos Bomb, come lo sono per esempio i Decoi e di conseguenza bisogna saperlo usare. Secondo me è utile portarsene dietro una dopo aver fatto l'upgrade dei consumabili quindi se avete un consumabile in più da sprecare ne avete quattro al posto di tre sicuramente una Chalk Bomb con voi portatevela perché può essere veramente utile soprattutto per salvare i propri compagni. Questa è una cosa che mi ha lasciato stupito, finalmente hanno inserito qualcosa per poterli aiutare in qualche maniera. Hanno aggiunto ovviamente anche la Borname numero tre Match che in pratica è una Borname normalissima con però il calcio quindi da lunga distanza. Ovviamente è una pistola semi-automatica, si può utilizzare quindi aumenta l'accuracy range e ovviamente l'handling quindi è molto più stabile, ha molta più distanza e accuratezza nello sparare e ovviamente è considerata come una medium slot quindi potreste andarla inserire con e se avete preso solo ed esclusivamente il tratto per potervi portare due armi medi dietro. Se no dovrete portarvi questa e un'arma piccola quindi consideratela come un fucile vero e proprio. Legendary content inseriti li abbiamo visti nelle live e li vado a ridire giusto per il Science of the Sun che è praticamente il Romero Hatchet molto bella sinceramente la skin questa è veramente veramente molto bella il Southern Bell che anche questo è del Romero lungo 77 carino e ovviamente hanno messo anche il Winfield Swift che secondo me questa è la skin più bella che ci sia dopo ovviamente le Bell perché quella è il mio fucile ma questa qui è veramente veramente bella quindi ovviamente è solo ed esclusivamente per le DLC ma se avete le DLC prendetela sprecate quei soldini per prenderla. Hanno inserito ovviamente anche i due leggendari hunter che abbiamo visto durante la live il Phantom e il Lioran's Hair vabbè l'Indiana e il fantasma molto belli sinceramente il fantasma lo reputo un po' troppo vistoso visto che è bianco e la maschera bianca e la faccia in mezzo all'erba bianca si vede molto bene ma comunque sinceramente sono dei bei leggendari hunter. Andiamo a vedere comunque adesso invece tutti gli upgrade generali che sono stati effettuati bene eccoci qua general upgrade andiamole a leggere la prima volta che li leggo anch'io quindi datemi un secondo per poterli tradurre allora il water devil come era stato detto in live vengono responati in diverse posizioni e soprattutto danno un po' più di xp se vogliono essere farmati quindi ottima cosa e dovrebbero essere più distanti l'uno dall'altra se vi ricordate in questo momento nella 1.0 abbiamo water devil anzi nella 1 sì nella 1.0 abbiamo water devil che potremmo trovarne in una pozza 18 e magari da altre parti 0 bene sono stati distribuiti un pochino meglio adesso gli allowance quindi i cani dovrebbero combattere molto più efficacemente soprattutto in quando fanno in la mid charge e soprattutto hanno aumentato la perception dei cani quindi dovrebbero essere più facili da aggrare stateci attenti ok adesso se noi andiamo invece poi qua l'ultimo è se noi andiamo ad uccidere i leaches quindi i vermi del midhead non lo aggramo più prima invece uccidendo un verme andavamo ad aggrare il midhead che come sappiamo tutti il midhead in questo momento è più forte dei boss quindi ci stai meglio starci lontani a quei bestioni lì gunplay ovviamente hanno sistemato la tutte e tre le borneim quindi li hanno migliorate in generale hanno sistemato il load le animazioni e hanno ovviamente tutte queste cose le hanno sistemate per tutte e tre le varianti in più hanno aumentato invece questo per le hive bomb il range per tirare una hive bomb e che adesso dovrebbe essere simile a quello della dynamic stick e fire bomb e in più hanno sistemato il menu di alcune armi che non si riuscivano a fare la comparazione con altre quindi hanno sistemato queste cose per il gunplay per gli hunter invece hanno introdotto il legendary hunter con la vita casuale quindi adesso quando andate a prendere un legendary hunter avrete la vita casuale mentre prima erano con le tre barre grosse e d'altro canto hanno anche inserito che i legendary hunter hanno tre stat quindi tre tratti base quando li andate a comprare quindi quando voi andate a comprare leggendare altre non solo avrete la vita casuale ma avrete anche tre tratti random ovviamente della bloodline ovviamente che avete sbloccato chiaramente nella vostra bloodline quindi siete a livello 100 sono tre tratti casuali totalmente hanno sistemato invece delle opzioni per quanto riguarda chi gioco controller quindi chi gioco su xbox anche perché se giocate su controller su pc siete degli idioti scusatemi ma è la verità dei fatti ma comunque se giocate invece su xbox sono stati migliorati i controlli per quanto riguarda il double tapping o comunque il tapping per correre e fermarsi quindi per i movimenti e hanno ovviamente sistemato anche che era stato detto in live il downed teammate icon quindi l'icona che noi andiamo a vedere quando un nostro compagno viene atterrato in questo caso all'inizio o meglio nella patch precedente della 1.1 veniva si vedeva praticamente sempre anche se non mi eravamo noi davamo questi concina del teschio bianco e se qualcuno si metteva dall'altra parte del corpo del nostro compagno era possibile vederlo adesso quelli concina se noi andiamo a vedere dov'è il nostro compagno scompare vediamo solo il cadavere contornato di azzurro quindi è molto meno invasivo hanno sistemato vabbè il meta come ho detto hanno i water devil xp sono tornati a 20 praticamente lo store vabbè sono state date le leggendari weapon qui vi dice quanto vengono a costare e soprattutto hanno sistemato un po' di v-sync varie ed eventuali pezzi di mappa la localizzazione quindi hanno incrementato hanno introdotto i polacchi il turco come lingue hanno in generale migliorato le varie lingue quindi la traduzione dall'inglese delle varie lingue anche perché in italiano fa veramente cagare durissimo e per il resto in realtà c'è stato un miglioramento come al solito di tutte le prestazioni del gioco che questo gioco non ne avrà mai abbastanza bug fix chiaramente ce n'è una quantità industriale sistemati e ovviamente c'è anche una quantità industriale di problemi conosciuti che chiaramente dovranno sistemare bene con questo è tutto fatemi sapere questa patch che cosa ne pensate io principalmente sono soddisfatto sni è una patch non molto corposa speravo in qualcosa di più vista la 1.1 e soprattutto speravo nelle custom lobby che ancora non vengono inserite aspettiamo di vedere le prossime patch che dovrà con cui dovrebbero arrivare anche il crafting in questo gioco e il miglioramento magari delle proprie armi andando a farmare in giro per la mappa bene con questo è tutto l'update 1.1 è live scaricatelo e buon game a tutti quanti ciao a tutti grazie